Con gioia un bel saluto. Ormai stiamo diventando tutti social e la virtualità sta un po' soffocando la realtà. Speriamo di ritrovare la realtà perché altrimenti questa virtualità ci rende la vita un po' più distante di quello che già è. Comunque accogliamo questi mezzi che ci aiutano così almeno a comunicare qualcosa di bello, non solo per quanto riguarda l'attività scolastica che voi bambini, ragazzi, adolescenti state svolgendo, ma anche qualcosa che ci aiuti a riflettere, a pensare, a metterci in ascolto di Dio della sua parola, a continuare un po' in un modo un po' particolare anche il cammino catechistico che si è bloccato nel nostro oratorio. Ecco questa breve parola è per incoraggiarvi domani a seguire la Santa Messa che dopo tanto tempo riusciamo a celebrare nel chiesino di Cale Stefani alle ore 10. Mi raccomando, davvero, sì, è un modo un po' così distante, però ci sentiamo raccolti ugualmente dal Signore che ci convoca alla sua parola e al pane spezzato del suo amore. Quindi domani, domenica, seconda di Pasqua, ore 10, canale YouTube Unità Pastorale Caffana. Davvero ancora un grande saluto e ci vediamo nel giorno del Signore. Grazie, ciao!